ciao sono bianca maria poggianti e sono astronoma dell'istituto nazionale di astrofisica lavoro all'osservatorio astronomico di padova io rispondo alla domanda come fanno le stelle ad essere in equilibrio e non collassare su se stesse questa è una domanda fondamentale in astrofisica immaginate la stella con una palla di gas e come ogni altro corpo nell'universo questo gas risente della gravità particolare se prendete una particella di gas sul bordo di questa palla risentirà della attrazione gravitazionale di tutte le altre particelle di gas e così via questo significa che complessivamente la forza gravitazionale tenderebbe a far comprimere la stella a farla collassare su se stessa ed ecco la domanda evidentemente perché questo non succeda ci deve essere una forza contraria che si oppone a questo collasso e questa forza contraria io la chiamerò pressione la pressione non è altro che una forza che viene esercitata per unità di aria cioè è la forza che insiste su un pezzettino diciamo di questa sfera di gas la pressione sostanzialmente due origini principali e di origine termica cioè è dovuta alla grande temperatura ed è dovuta alla radiazione cioè i fotoni che si sviluppano all'interno della stella e quello che alimenta la pressione termica e di radiazione della stella sono le reazioni nucleari che avvengono nelle regioni centrali infatti all'interno di ogni stella perché si possa definire stella deve avere delle reazioni nucleari nel suo centro che trasformano alcuni elementi chimici nati elementi leggeri in elementi più pesanti queste reazioni producono molta energia e sostengono appunto si oppongono al collasso gravitazionale in realtà le stelle non sono proprio in equilibrio sono in una condizione di semi equilibrio cioè sembra un equilibrio perché il tempo scala su cui i tempi necessari perché diciamo cambi la loro il loro raggio sono tempi molto lunghi che quindi non sono apprezzabili ok però ogni stella nasce e finisce in condizioni di non equilibrio cioè all'inizio perché una stella nasca la grande nube di gas da cui nasce si comprime proprio per la forza di gravità la temperatura aumenta particolarmente nelle regioni centrali continua a comprimersi finché la temperatura è sufficiente per innescare le reazioni nucleari da quel momento la stella si assesta trova un equilibrio e rimane così anche per molto tempo per esempio nel caso del nostro sole può rimanere per nove miliardi di anni in questa condizione di semi equilibrio ma ci sarà un momento in cui questo equilibrio si rompe di nuovo perché il combustibile al centro per le reazioni nucleari non è più sufficiente a fornire l'energia necessaria per contrastare la gravità e quindi si arriva alle fasi finali della stella che può avere destini diversi ma che di nuovo subisce condizioni veramente di non equilibrio spero di aver risposto grazie della domanda